Oggi con noi una promessa della musica italiana, Roby Facchinetti! Vieni Roby! Ciao, 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 ciao! Salutiamo ragazzi, salutiamo ragazzi! Ciao, 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 ciao! Saluto, eh, saluto! Saluta a tutti! Ciao, 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 ciao! Ciao, tutto bene? La classica, Lea! Ciao a tutti! Grande, grande! Adesso, no, ok, posso andare? Poi andare, cazzovilla, salutiamo la finita! Ok, Roby, sei un po' emozionato, di la verità. Beh, sì, anche perché nella mia città, devo dire, la vivo sempre con emozione, perché chi si troverà davanti al televisore e guarderà e mi guarderà, so che ci sono gli amici, ci sono i parenti, e io, capito, ho figli, nipoti, e ne ho veramente tanti, per cui devo stare attento a quello che dico, quelli poi mi bastonano, eh! Ah, allora sei venuto alla trasmissione adatta, perché noi siamo gente così, vedrai che poi non ti pentirai, però, loro non ce li ho presentati, però sono i ragazzi del Manzù, del liceo artistico Manzù. Ah, bene! Artista con artisti, l'ho messo insieme così. Siamo fra artisti qui, no? Siete tra artisti, mi tiro fuori perché io sono l'unico, un ragioniere, un contabile messo in scrivania. Posso chiamarli colleghi? Colleghi, devi chiamarli colleghi. Tra l'altro loro hanno preparato, vediamo se li chiamerai colleghi dopo che avrai visto la social card che hanno preparato per te, come appare Roby Facchinetti attraverso i social? Tu li usi i social? Ah, questo mi piace, mi interessa molto. Ti interessa, vediamolo insieme, l'hanno preparato loro, vediamolo insieme, social card di Roby Facchinetti, via! Camillo Ferdinando Facchinetti, in arte Roby, è un cantante e compositore nato il primo maggio 1944 nella nostra amata Bergamo. Deve il suo successo alla famosa band dei Pooh, fondata nel 1960, grazie alla quale si è guadagnato un posto nel cuore di tutti gli italiani. Tra i suoi hobby ci sono il calcio, le passeggiate nella natura, il cercare di farsi investire dai tram e fare l'insegnante di pianoforte a cani e marmocchi. Roby, molto legato alla sua famiglia, alla quale ha donato occhi azzurri e un innato talento musicale, ama festeggiare con loro appena ne ha l'occasione. Ama vestirsi in modo sobrio, fin dalla tenera età. Quest'anno, insieme all'amico Riccardo Fogli, è tornato sul palco dell'Ariston che già aveva conquistato nel 1990, ma ora, momento gossip, Roby ha un amante con la quale condivide il letto tutte le sere, la musica. Roby, ma quando avevi la loro età, a 17 anni, che tipo eri? Cioè, già cantavi nei teatrini, oppure eri uno un po' timido, che tipo eri tu? Da piccolo? Sì, da piccolo, piccolo anche se loro vai, loro sono grandi. Io sono sempre, ho scoperto la musica a pochissimi anni di età, attraverso una, l'ho detto altre volte, però insomma, lo voglio ribadire, attraverso semplicemente un'armonica bocca, che mi hanno regalato Santa Lucia, perché Santa Lucia, noi Bergamaschi, è più di Gesù Bambino, è più della Befana, insomma. E io avevo chiesto l'armonica bocca perché c'era questo mio vicino di casa che tutto il giorno suonava con questa armonica bocca, ed ero affascinato da questo suono. Non lo detestavi, eri affascinato? Affascinato da questo suono. A Santa Lucia arrivò questa armonica bocca, la prima cosa che feci, no? Provare! E lì ho capito subito quanto fosse straordinario riuscire a trasmettere un suono attraverso questo strumento, cioè il fascino e l'emozione di suonare uno strumento, che era, stiamo parlando dell'amorica bocca, però comunque era uno strumento importante all'epoca. e iniziai poi a studiare musica a 6-7 anni. Era una famiglia borghese, una famiglia operaria? Una famiglia assolutamente normale, io sono il primo figlio di 5 fratelli. Cosa facevano i tuoi? Mio padre lavorava alla Dalmine e per poter mantenere la famiglia, lui lavorava, era un bravissimo falegname, un bravissimo artigiano, e lui faceva tutti i lavoretti alle famiglie, io sono nato ad Astino e le famiglie di Astino e dintorni, insomma, lui faceva tutti questi lavori di falegnameria ed era il suo modo, insomma, per arrotondare e per poter mantenere una volta c'erano due lavori, è raro che i nostri genitori avesse un lavoro solo. Fu veramente un grande padre, ma io poi scoprì la musica, proprio che ebbi la famosa folgorazione, perché poi noi seguiamo sempre gli esempi, uno vede come gioca Maradona e dice io vorrei giocare come lui, no? E poi gli nasce questa famosa passione. Mi è nata una domenica pomeriggio perché vedendo un film in bianco e nero con mia madre, parlava di questo ragazzino, fenomeno, che a 12-13 anni lui aveva, mi fece dato che era un fenomeno musicale, lui diresse un'orchestra sinfonica enorme. Io rimasi incantato per tutta la durata del film, c'era mia madre seduta vicino a me e alla fine la guardai un po' dal basso verso l'alte e dice, mamma, io da grande voglio diventare come quel bambino lì. Infatti ogni tanto mia madre me lo ricordava perché io questa richiesta a mia madre la feci con una convinzione così forte che mia madre aveva capito proprio in quel momento che io nella vita avrei fatto questo. Volevo diventare direttore d'orchestra, non ce l'ho fatto però ho avuto comunque un altro percorso. Più del direttore d'orchestra in questi casi. Ma dei tuoi genitori, cosa ricordi loro? Hai mai pensato qualcosa che potevi dire loro e non hai detto? Oppure qualcosa che vorresti dirgli adesso se fossero qui? Sono stati dei grandi genitori, genitori di una volta che hanno comunque cercato di trasmettere i veri valori della vita che poi non sono poi tanti, il rispetto, cercare sempre di essere dalla parte del giusto delle cose. Mia madre diceva, anche mio padre, insomma cerca di stare con voi, beh succede quello, però tu stai dalla parte giusta, vedrai che non sbaglierei mai nella vita. E poi vabbè, insomma, hanno rispettato fin da subito, un po' meno quando hanno cominciato a fare seriamente questo lavoro, perché adesso è facile. E vanno preoccupati, dico, ma caro Friarobi, vai in banca a lavorare. Perché credo nella loro mentalità e il discorso di un... comunque io avevo 18 anni e ho cominciato a fare la professione ed essere in giro per il mondo, questo non gli rientrava molto all'epoca, no? Però qui voglio parlare del... soprattutto loro, no? Eh, insomma. Che io ho inseguito un sogno, ho inseguito la qualità di questa passione, perché tanti dicono, no ma io ho passione per... sì, ma come? Quale? Che passione è? Di che qualità? di che profondità? No, è questa che fa la grande differenza. Allora, quando loro hanno capito che io non era una semplice passione, oppure questa passione era talmente profonda, talmente forte, che non potevo che fare questo lavoro, non potevo che inseguire assolutamente questo sogno. E i ragazzi, e mi capita spesso quando ci sono dei ragazzi, anche come loro, che si avvicinano alla musica, no? E mi chiedono, ma io come faccio a capire se questo mestiere mi piace, oppure questo strumento, il pianoforte, la chitarra... Come si fa? Come posso capire questo? Allora, chiaramente, io mi rifaccio alla mia esperienza. Quando avevo la vostra età, anche meno, non so, che ne so, giocavo il pallone con i miei compagni, io, che mi piaceva molto, devo dire, interrompevo la partita, durante la partita, anche quando si vinceva, che diceva, no, allora io devo andare a casa, no, no, ma che sei fatto, aspetta un attimo! E no, perché io devo andare a casa a suonare. E quando uscivo con le prime ragazzine, che andavo al cinema, anche se mi... però io vedevo il film, però io pensavo che al brano che stavo suonando in quei giorni, lui diceva, senti, ma ti piace questo film? Sì, è bellissimo, ma a me non piace. Cioè, andiamo via, perché è la mia testa. E allora, quando la qualità della passione è in questo modo, che uno non riesce veramente a pensare a nient'altro che a questa cosa, beh, allora è una passione vera. E allora uno può dire, vabbè, questo può essere un mio sogno che voglio realizzare. E quando è così, devo dire che, io parlo sempre, chiaramente, quella che è la mia esperienza, quando è così, che è veramente sentita, che è veramente forte, io dico sempre, la vita poi ti premia. Perché la vita ti dà e ti toglie. Se tu hai veramente questo sogno, che tu lo senti appunto come io potevo sentire la musica, la vita ti dice, vabbè, dai, questo io lo diamo, lo merita. E cosa ti ha tolto, Robi? Cosa ti ha tolto la vita? Vabbè, tanto, perché questo, la musica, quando ti prende, quando entra dentro, vuole più lami e più ti porta via del tempo, perché comunque ti devi dedicare. Più lami e più ti dà. Però è chiaro che poi devi togliere dall'altra parte. Ad esempio, quello che possono essere, cioè il mio ruolo di padre e di marito, sicuramente a livello di quantità, di tempo, non l'ho sempre avuto. Posso dire che non ho visto crescere i miei figli come possono fare tutti i padri, giorno dopo giorno, quando magari dici la prima parolina o quando il primo giorno di scuola o dell'asilo. Non sempre sono stato presente e questo è chiaro che... Hai una pennellata di ogni figlio? Di com'è? Secondo te magari quelle cose che magari... E non è facile dirgliela in faccia, perché non è che a Natale ci sta... Beh, vogliamo dire la prima figlia, Alessandra. Alessandra, che tipo è Alessandra? Beh, Alessandra è la prima figlia, per cui l'emozione della prima figlia, l'emozione comunque di diventare padre per la prima volta. Insomma, è veramente indimenticabile. È una capatosta, Alessandra? Oppure è artista? Beh, lei è molto bergamarska. Difatti nella sua vita, nel suo lavoro, cioè è sempre arrivata ad avere veramente dei successi straordinari, perché lei è stilista e adesso ad esempio lavora per un grosso gruppo cinese e grazie proprio alla sua capovietà, lei è proprio bergamasca. Determinata. De bergamasca. Poi perciò... E caratterialmente non è un'esplosione, perché lei è molto discreta e potrebbe sembrare anche timida, ma non lo è. È molto discreta, molto gentile, molto... ecco, non ha delle punte, è sempre comunque abbastanza pacata, però determinata. Alessandra è una via, poi? Valentina, quanto tempo abbiamo? Abbiamo un po' l'altro. Abbiamo, prima che chiami abbiamo te, perché poi i figli sono piazzecone. Valentina è forse la figlia, no, mi assomiglia molto, è l'opposto di Alessandra, è un'esplosione di... È vulcanica. È un'esplosione di vitalità, di idee, e poi ha fatto il suo modo di avere le idee chiare proprio sul... anche quando io stesso gli chiedo dei consigli, lei pa 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 pa, con una lucidità incredibile. Infatti lei fa l'ufficio stampa di un'importante radio, è il suo lavoro, comunicazione, e lo fa... Mi assomiglia molto, molto, sì, lei è proprio una Facchinetti... Di quelle... è una Robi Facchinetti. No, 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 sì, è una Robina Facchinetti. Una Robi Facchinettina. Poi, terzo, chi abbiamo? Il terzo è qui, Rivelbello, perché arriva Franci, Francesco. Francesco. Che è, vabbè, insomma, Franci è sempre stato comunque un ragazzo molto impegnativo da genitori, perché lui, come si dice a Bergamo, una ne faceva e venti, ne inventava, insomma, da piccolo, ne combinate di... Tipo? Di ogni. Tipo? Basso. Dai, qualcosa di cui non ti vergogni. No, no, tutte le marachelle, più possibile, non lo so, prendeva a calci negli stinchi, perché magari gli dava fastidio gli ospiti, perché non gli piaceva un ospite, lo prendeva a calci negli stinchi. Un sogno! Arriba Pippo Baudo, e poi non è che arriva... Ma perché non mi piace, punto. Una volta, una sera, vabbè, sono costantini, però episodi abbastanza vicini a quello che è il mio lavoro, c'erano in Mattia Bazzari, parlo di un po' di anni fa, in televisione, e lui chiaramente amava i Pooh, e tu gli potevi, i Beatles, qualsiasi altro gruppo, però lui diceva, insomma, il gruppo che vi piace, insomma, siete voi i Pooh, punto. E allora c'erano in Mattia Bazzari e gli disse, guarda, domani ci vengono a trovare, perché il papà è amico, e lui fa, papà, a me non piacciono per niente, sì, ho capito che non ti piacciono, però mi raccomando, domani non le dire, perché poi mi fai... Io ci rimango male, no? Vabbè, poi il giorno dopo, oh, guarda che arrivano le due, mi raccomando, Franci, perché io lo conoscevo, sapevo che... Insomma, arrivano tutti carini, lui si mette vicino a me, e li guardavo così, no? Li guardava, non ne potevo... A un certo punto, a un certo punto, gli dice, papà, dal basso, papà, e mi sono dicendo la versione, papà, poi gli dice, ti devo dire una cosa, eh, dimmi, dimmi, continuo, non piacermi, però me l'ha detto in un'orecchia, insomma, lui era, ad esempio, una volta, una volta fece una marachella, andò a letto tipo alle otto, l'hai mandato a letto alle otto, vai, vai alle otto, subito a letto, e alle tre di notte, vi giuro, alle tre di notte, che era giù sotto, e noi eravamo con degli ospiti, stavamo parlando, a un certo punto lui arriva in pigiama, avrà avuto quattro anni, vi giuro, in pigiamino, arriva piangendo, si avvicina a me, papà, io da te, i regali, non li voglio più, e poi ci hanno andato, cioè, questo, questo, per dire, no, perché, ti ha fatto soffrire, no, perché, perché io amavo a tutti i figli, stato girando, amavo moltissimo prendere dei regali, soprattutto in America, certe cose, all'epoca, si trovavano solo in America, ma al di là di questo, ogni viaggio arrivavo comunque con un regalo, e lui aveva capito che per me regalare, dare, donare, era importante, e allora si vede che fino alle tre, per cinque ore, ha pensato, cosa posso fargli a mio padre, come la cosa che più ci tiene, non li voglio più, perciò tre le abbiamo già fatti, gli ultimi due, dei figli, chi ci resta? Beh, poi c'è Roberto, che è un po' il filosofo della famiglia, per cui ha fatto lettere moderni, gli manca un esame, ancora, però lo farà, anche perché lavora, ed è, sì, insomma, un ragazzo veramente molto intelligente, molto acuto, ama ogni cosa che fa, di approfondirla, e con lui mi trovo spesso in difficoltà, perché si può parlare di qualsiasi cosa, ma nel modo più profondo, perché a lui piace molto veramente approfondire le cose, è anche bello parlare con lui, e di fatto ogni tanto ci scontriamo, ci scontriamo, per ogni, qualsiasi motivo, no? E poi io mi salvo in corner, di solito con i figli, perché dice, vabbè, ok, ho capito, però, una cosa io ho, che voi non avete, è, cosa papà, l'esperienza, e questa non si può comprare in negozio da nessuna parte, e così vico, io, tan, allora lì, il carico da 90, si chiude il discorso, e perciò quattro, sono andati l'ultimo figlio, beh, l'ultimo è Giulia, Giulia, che lei è diventata mamma un anno, 14 mesi fa, come del resto Valentina, come non l'ha parlato i miei nipoti, perché Franci ha tre figlie, e più una figlia adottiva, insomma, contiamo pure quella, sono sei. E' bello, il pranzo di Natale, franzo di Santa Lucia, perciò Giulia, invece, che era più giovane. Giulia, lei mi assomiglia a molto determinata, infatti, lei praticamente è diventata manager, ha un'attività con suo marito, che va molto bene, e ecco, non è mai stato, sai, mediamente per i genitori i figli, no, sono comunque sempre un pensiero, no, oddio, come se la caveranno, lei non è mai stata comunque, sia per me che per la mamma, un pensiero perché lei, tipo, anche, insomma, quando andava a scuola, la prima cosa che faceva, adesso non so se voi tutti fate la stessa cosa, faceva i compiti, magari fino a... e non c'è stato una volta che gli avevano detto di fare i compiti. E' dirigente, è dirigente. Molto inquadrata, ha fatto la Bocconi, poi ha fatto un corso, un master a Madrid, scelto da lei, tutto col massimo dei voti, insomma, per cui diciamo che sono fortunato anche per questo, e questa è una bella fortuna. Tante fortuna, per i figli, è vero, sei stato benedetto, non solo per la musica, ma anche per i figli, eh? Esatto. Siamo a Anton, vediamo Anton, Anton, come sta andando, intendiamo il microfono ad Anton, Anton, sei tu il mio maestro qui, come sta andando l'intervista? Molto bene, direi. Hai qualcosa da chiedere, tu, dico, eh? No, per adesso no. Per adesso no, andiamo avanti noi, tranquillo? Perché, visto che Robi uno ha la mano, ha tanti nipoti, tanti figli, abituato a quei giovani, è duro stare al passo. Sì, mi piace molto, anche perché, insomma, i miei figli hanno tutti, no, i coetanei, magari non come loro. Eh, 17 anni, loro, ma sono metà. Abbiamo molto, molto parlare con loro, e la cosa che mi dispiace molto è che quando chiedo a questi ragazzi, e sono convinto che se dovessi fare la stessa domanda anche a loro, una buona parte magari mi dicono, mi rispondono la stessa cosa. Cioè, quando gli chiedo che cosa vuoi fare da grande, cosa è, non lo so. E questa è una brutta cosa. Aurora, lo sai cosa fare? Non lo so. Eh, vedi. Mi sa che quasi tutti non lo so. Questo, questo devo dire che magari, ed è un, e devo dire che è colpa nostra, perché stiamo lasciando questi ragazzi un mondo talmente strampalato, talmente dove tutto, no, c'è, perlomeno c'è la sensazione, anche se adesso le cose stanno andando un filino meglio, ma per anni abbiamo detto che non funzionava niente, abbiamo detto che tutto era in crisi, per cui loro hanno assimilato questi discorsi e in effetti è molto, oggi c'è molta difficoltà, no, in tutte le cose che facciamo, soprattutto alle ricerche di un lavoro, perché uno dice, cosa devo fare, aprire una goccia, ma sei matto, eh, che ne so, voglio fare, no, è tutto, è tutto, cantante, per carità, non c'è, non c'è, non c'è, ci sono gente che canta, è qua, è tutto, per cui questo futuro, rispetto a quando io avevo la loro età, no, che sognavo, veramente si poteva sognare molto, molto, molto lontano, no, adesso invece non dico che non si riesce a arrivare a sera, perché le cose cambiano così velocemente, però questo non significa che non bisogna crederci, anzi, anzi, e questo ho le, leggevo un altro articolo molto bello, no, che oggi il lavoro di una volta si misurava con il sudore e i muscoli, adesso il lavoro di oggi si misura molto con la testa, con il nostro cervello, ecco le idee, le idee nuove, perché sono loro e saranno loro che dovranno aggiustare e sistemare questo nostro mondo, attraverso le idee. Avendoli qua spesso, avendo qua loro, anche gli altri, vero Paolo? Siamo fortunati noi, perché poi quando li incontri scopri la ricchezza che hanno e davvero mi danno una fiducia, penso ai miei figli e penso a loro, sono molto più in gamba. Ma Paolo, tu conosci qualcosa di roba invece, c'è i bergamaschi qui, il pasto, le voci, come ti piace esempio qua a Bergamo? Cosa si dice? Si dice che avendo girato molto il mondo, l'Italia, che hai una particolare conoscenza praticamente di tutte le città, c'è una piccola leggenda che dice che in qualsiasi città uno nomina, tu sei in grado di dire sì, lì ci sono stato, ho magari mangiato in quel locale lì, è sempre un riferimento per quasi tutte le città d'Italia. E' chiaro che con il mio lavoro è sempre stato molto molto importante la cucina e noi abbiamo sempre detto che ad esempio per tanti anni noi facevamo una tournée, che era una tournée musicale, poi parallela c'era una tournée enogastronomica, ma noi potremmo veramente scrivere, capito? La guida Michelin dei tuoi. La guida nostra e non sbagliamo un colpo perché per 50 anni noi abbiamo girato in lungo e in largo l'Italia sulla nostra pelle, poi alla fine, insomma dopo anni di ricerca, dove è in una città, vai tranquillo perché se ti consigliamo quel ristorante, perché quel ristorante è stato veramente ci sta, non si può mangiare male. Dato che il cibo è una cosa molto molto importante. E qual è il tuo piatto preferito? Beh, io amo molto il riso, per cui tutto il modo del risotto, la milanese in poi. poi il riso è veramente un prodotto straordinario perché si può fare in mille modi, cioè l'ho mangiato anche ai petali di rose, cioè il riso con i carciofi, il riso con le pere, no? Ed è un piatto che amo veramente molto anche per questo, però sai di fronte a Napolente con il coniglio, di fronte a Napolente con un brasato fatto bene al vino rosso, che è certo. No, ma tanta roba. E poi dopo cosa bevi dopo? Caffè, caffè e grappino finale. E la grappa. E tu è vero che tu sei un intento di grappa. Beh, grappino con questo freddo devo dire che ci sta, ci sta da morire. E poi io sono anche un collezionista di vino perché ho scoperto che stare a tavola mangiando anche un piatto normalissimo che può essere un piatto di spaghetti e basilico con mezzo bicchiere di vino buono cambia veramente la qualità dello stare a tavola. Certo, insomma, entro un bicchiere... Eh, noi già un bicchiere, perché se sono due a tavola si può, basta non guidare e poi... Di più, sì, no, 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 di più, insomma, senza esagerare. Senza esagerare. Poi il vino rosso, perché il vino è rosso. Poi si canta meglio, se lo vedete. Fa bene. Mi rincoglionisco un po', perciò lo faccio assolutamente. Ma non bisogna stare attenti. No, il goccino... Il goccino è un conto, ma non troppo. Perché poi, capito, dimentichi il testo, insomma, va un po' nel... Non è poi così vero, no, che... Perlomeno poi, sai, è molto soggettivo. Facciamo una cosa, facciamo un seme, hanno fatto un altro programma loro, un altro prodotto, un altro video loro, hanno intervistato delle persone in giro, allora vediamo un Quante Ne Sai insieme, poi facciamo una cantatina anche insieme, dai, facciamo una cantatina, vediamo, dai. Vediamo il Quante Ne Sai dedicato a Robby Facchinetti, via. I Poo sono una band che negli ultimi 50 anni continua a fare la storia della musica italiana. Robby Facchinetti, ora vediamo quanti bergamaschi saranno in grado di mettersi nei tuoi panni. Cosa le viene in mente se le dico Poo? Mio padre... I cantanti... Un gruppo musicale di successo... Robby Facchinetti... Gruppo storico di Bergamo... Musica italiana... A cosa deriva, secondo lei, il nome Poo? Non ne ho idea... Mi viene in mente Winnie the Pooh... Ah, Poo, Winnie the Pooh forse... No, vi devo chiedere una cosa molto importante... Cantateci una bella canzone dei famosi Poo. Oh, piccola Katie... Oh, piccola Katie... No, no, no... Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare... Col dopo barba di sol... Che sa di pioggia e la 24 ore... Oh, piccola Katie... Non so che voi siete già delle rock star, noi vogliamo semplicemente darvi il tono da rock star... Chi fermerà la musica... L'aria diventa elettrica... Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora... Chi fermerà la musica... Mi solo un minuto, soffio di fiato, un attimo ancora... Wow, che spettacolo... Dopo aver avuto un assaggio del talento musicale bergamasco possiamo dirvi che... C'è un Robby Facchinetti in tutti noi... Questa è una cosa bellissima... Un bel compliment... Fai i complimenti Alessia e tutti quelli che hanno... Tutto loro fanno, riprese, fermano le persone... Beh, avete un futuro, eh... Eh, esatto, penso un po' te... Robby, tu fai cantare tutte... Cioè, le canzoni di Pooh... Quando uno si trova a tavola fa il karaoke... Beh, vi racconto questo, l'ho già raccontata e se la sapete mi fermate... Beh, la forza della musica, no? E' anche questo, no? Che ti entra nei tuoi ricordi... E poi tutto ciò che è legato alla musica mediamente sono sempre delle cose belle, no? Per quanto riguarda voi, magari, che ne so... Degli affetti, degli amori... Comunque c'è sempre una buona dose di emozioni nei ricordi legati alla musica, a una canzone... E... Beh, io mi diverto quando sono in giro... A fare anche degli esperimenti... E... Il nostro brano... Se io dico... Ma la storia è chiuso qui... Chiunque risponde... Attenzione, proviamo... No, no, no... No, no, no... Sì, io ho fatto questo in... Non so, in Times Square... Due anni fa... Mi sono messo lì in... Fuori... Il primo ore del pomeriggio... E ho detto... Io voglio... Dicendo... Voglio capire un attimino se i Pooh sono conosciuti... Anche a New York... No, anche a New York... Fra l'altro... Questo... Ho fatto due esperimenti... Il primo... Il giorno prima del concerto che... Che avevamo poi la sera... A New York... Mi sono messo lì... Maledare che uso qui... Pensiero... Lì... Lì... Non l'aveva risposto nessuno... No, no... Maledetti New Yorkesi... E sono rimasto malissimo... Eh cavolo... Il giorno dopo... Dopo che abbiamo suonato... Chiaramente... Abbiamo fatto il concerto a New York... Ho detto... Voglio rifarlo... Perché... Non hanno risposto... Perché... Perché non avevamo ancora suonato... Suonato... Ma dopo che ho suonato... Che cavolo... Allora tutti rispondevano... E allora... Il giorno dopo... Sempre nello stesso punto... Non essere chiuso qui... E mi hanno risposto... E mi hanno risposto... E ti hanno risposto... E mi hanno risposto... E mi hanno risposto... E mi hanno risposto... E mi hanno risposto anche... Sulla muraglia cinese... Che ho fatto lo stesso sperimento... E che questa è la canzone però... E quella più... Un gruppo di toni... No... E poi... E adesso arrivo il dunque... Mi trovavo in autostrada... Con degli amici... In macchina... E parlavo proprio di questo... No... Della forza della musica... No... E... Pensiero... È... Sicuramente... No... Su questi fronti... Da stadio... E... E... E dissi... Facciamo una scommessa... E dice... Io... Ci fermiamo... Al prossimo autogrill... Io vado in bagno... No... Nei bagni... Chiudo dentro... Io faccio... Non restare chiuso... E qualcuno mi risponderà... Oh... Ma non è possibile... Non restare chiuso qui in bagno... Ma non è possibile... Ma non è possibile... Ma no... Ma no... Scommettiamo... Abbiamo scommesso... E siamo fermati... Io... Sono entrato... In questo bagno... Sono chiuso dentro... Sentivo gente che andava e veniva... Non restare chiuso qui... E' stati due secondi... Poi ci fu... Una risposta... Pensiero... Era un altro bagno... Pensiero... Ragazzi... Per piacere... Ma per piacere... No... Troppo... Era... Era faticoso... Troppo... Si... Però... Però comunque... No... Voleva rispondere... Era più forte di lui... Era più forte di lui... Era più forte di lui... Che grande... Noi abbiamo un po' di karaoke... Dai... Facciamo un po' di karaoke... Una volta che c'è Roby Facchinetti... Paolo... No... Avevamo proprio... Preparato questo... Guarda qua... Va... Vedere... 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 Noi rispondiamo ragazzi... Noi rispondiamo... Noi rispondiamo... Noi rispondiamo... Noi rispondiamo... A piena voce... Pronti eh... Ce la lanci tu... Si... E Roby che la lanci... Si Roby... Vai... No... Attenzione... Prima è... Non restare chiuso qui... Nel cielo... E va... Vai... Nel cielo... Qua... Quasi... Siamo qua... Vai vai... Lui è alto... Sul muro... Presa... Scrivi tutto ciò che sai... Che è vero... Che è vero... Vabbè... Vabbè loro sanno... Vabbè... Oii... Ma... 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 Ma ne abbiamo un'altra... Ma... Ma... Ma qui... Ma... 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 cantarlo è impegnativo è abbastanza impegnativo non è impegnativo anche perché facciamo cantare la gente e basta da 30 anni in poi voi mettete lì vai è un vero caroche quando c'erano i nostri concerti questa è la cosa noi abbiamo un'altra canzone di un altro perché non tutti sono dei fan dei Poo tranne me e Anton e altri loro però loro hanno anche altri cantanti i ragazzi hanno detto ci chiedevamo cosa hai nella playlist sicuramente ascolti tanta musica e ci sono tutti questi nuovi cantanti che sono proprio i generi anche molto strani particolari e hanno chiesto ai ragazzi ma se voi dovesse scegliere una canzone proprio da cantare stile karaoke che cosa scegliereste? loro mi hanno detto Gali la conoscono meglio di pensiero eh meglio no e questo mi dispiace un po' meglio no meglio no ma Robi bravi bravi sono ragazzi sono come i tuoi nipoti sono giovani sono giovani però pensa che tra 50 anni non so se Gali sarà qua a raccontarci come tu hai fatto e tu hai cominciato diciamo che 50 anni fa una cosa come l'abbiamo finita noi che due da 50 anni poi soprattutto con con i risultati no che siamo riusciti fortunatamente a fare nel tempo credo che sia boh penso quasi ripetibile no penso che siete forse più lungi perché oggi oggi è cambiato cioè è cambiato veramente il mondo no adesso viene tutto no bruciato in pochissimo tempo perché già c'è un'altra cosa ma anche la musica insomma adesso vediamo vediamo Gali che fine farà il vostro Gali questo brano che è ti fa capire dove la musica sta andando no senza nulla togliere per carità oggi loro hanno talmente rispetto a noi talmente tanti interessi che fanno tante cose nell'ambito di una giornata rispetto magari alla mia generazione che potevamo c'era la scuola e il pallone finito e l'armonica bocca e l'armonica bocca e l'armonica bocca proprio oggi loro fanno talmente tante cose per cui non hanno neanche il tempo di fermarsi non di sentire ma di ascoltare e per cui noi cioè negli anni la musica pop che si è fatta quella importante che rimarrà nella storia della musica è stata fatta fra gli anni 60 e 70 dove c'era i brani avevano in sé dei contenuti sia di testo che di musica e poi c'era un'altra cosa ancora molto più importante che è successo di Battisti veniva cantata da tutti dai 7 ai 70 anni invece adesso più di musica però facciamo una cosa visto che dobbiamo salutare Robi e Facchinetti perché non vogliamo rubargli più tempo però davvero tu sei nella storia della musica e sarai sempre nella storia della musica e questo credo che sia scritto poi nei libri e anche le loro generazioni che hanno giocato a fronte i foglietti magari per i genitori però Robi e Facchinetti sarà sempre Robi e Facchinetti e questa è la cosa più bella grazie mille Robi per essere stato con noi grazie Robi grazie è la giornata del talent e io ho preso il trono del talent ho dovuto prestare la mia sedia a un giovane cantante una giovane promessa allora Robi Facchinetti che è qua grazie mille Robi però avendo dovuto dare la mia sedia io ho tenuto uno scranno reale Paolo che bella è sta poltrona sai facciamo un talent altro che X Factor altro che The Voice abbiamo delle persone nel liceo artistico Manzu che hanno delle qualità giudica tu giudica tu allora chi cominciamo sono molto severo molto severo guarda che già severo sì sì Luca severo Luca 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 e Beppe Luca e Beppe che è un duo pronti? cosa ci canterete Luca e Beppe? cosa ci canterete? cantiamo I'm Yours di Jason Braz va bene Jason Braz ah però senza microfono microfono sì un po' è unplugged è unplugged era fuori budget era fuori budget Robi non abbiamo i budget di Poo senza microfono ha il giaccaro che non c'è strumento Benzio 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 No more, no more, it can't play, I'm yours. Più bello ma anche più severo di Mara Maionchi abbiamo Robby Facchinetta. No, allora, devo dire che come esecuzione direi buona. Anche il controcanto col clarino, non hai sbagliato una nota, si è intonato, per cui ha avuto veramente un senso. Anche tu, purtroppo la voce, il microfono era molto lontano, non si è sentita molto, però insomma hai un colore molto delicato, la strada però è ancora lunga. La strada è lunga, eh? La strada è ancora lunga, diciamo che l'obiettivo è Roma, se l'obiettivo è Roma, voi siete al casello di Seriate, ok? Però il casello, il casello, il casello, il casello, il casello, il casello l'avete preso. Eh dai, non ci lamentiamo, è già qualcosa. Scusa, stiamo parlando con la storia, la musica italiana. Per noi è niente. È già molto, è già molto, eh? Va bene, grazie Luca, perché abbiamo ancora dei giacoli? Abbiamo Leonardo? Leonardo. Sorge in fa, sorge in fa, o sono a procella, del rinaldo di Endel. Cioè è una, è una scioglilingua oppure è una... No, sorge in fa, o sono a procella, è un'aria che viene cantata da Zoroastro, che fa parte di un'opera di Endel. E' barocca. Va bene. Pronti? Vai. Pronti? Applauso. Applauso. Pronti? Via. Se c'è il fa, o la storia trocella, è un solo al, fa il gelo e il mare, è un solo al, fa il gelo e il mare, è un solo al, fa il gelo e il mare, è un solo al, fa il gelo e il mare. Voi ridete, ma c'è niente da ridere. Ti consiglio, se a te piace cantare? Sì, sì. Perfetto. Ti consiglio di studiare, perché tu hai tutte le caratteristiche per diventare un buon baritono. Questo è il mio. Perché? Cioè. Perché? 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 Non hai ancora studiato canto. Io ho cantato per due anni come pueri cantorso nella Cappella Sistina. Ero soprano, ero però come esterno, non l'ho mai fatto per te. Ma tu hai avuto un coach, un maestro di canto, un vocal coach? Sì, ho studiato insieme al mio maestro di coro, perché io inizialmente ero contro tenore. Poi ho deciso di studiare per diventare baritono, appunto, come sto facendo adesso. Esatto. Devo continuare. Allora, continuo a studiare che, rispetto a loro che hanno imboccato il casello in seriate, tu sei già arrivato ad Almin. Ad Almin, complimenti. Grazie mille. Grazie.